Enexanax Lei è la figlia di un'americana, trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana, ormai disoccupata. Enexanax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di medicina amara e chiodi di garofano. Lei è per strada e lui rubava i libri della biblioteca e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. Su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enexanax quando litigavano avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York. Uccidersi al telefono. Lei si calmava e lui la ritrovava nuda sulla sedia. E poi sovrapponevano il battito cardiaco. Se non ti spaventerai con le mie paure. Un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. Su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enexanax si anestetizzavano con le loro lingue al gusto di menta e marijuana. E poi si attormentavano. 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 E poi ora inizio.